Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato il paradosso dell'amico di Weiner che consiste in un esperimento mentale di fisica quantistica che nel 1961 il fisico ungherese Eugene Weiner propose in modo provocatorio. Propose il problema di cosa potrebbe succedere applicando la meccanica quantistica ad un osservatore, che è anche lui osservato, e la risposta a questo problema è questo esperimento mentale, che vuole dimostrare e mettere in evidenza il ruolo della coscienza nel processo di misurazione in meccanica quantistica. Può essere considerato un'estensione del famoso paradosso del gatto di Schrodinger, un esperimento mentale che Schrodinger ideò nel 1935, che consisteva in un gatto rinchiuso in una scatola insieme ad una sostanza radioattiva, un contatore Geiger, una fiala di veleno ed un martello. Al decadimento della sostanza radioattiva si sarebbe attivato il contatore Geiger che avrebbe azionato il martello e rotto la fiala di veleno, che evaporando provoca la morte del gatto. Secondo l'interpretazione di Copenaghen il gatto è sia vivo che morto allo stesso tempo, fino a quando non viene aperta la scatola ed effettuata una osservazione del suo stato. Questo esempio mette in evidenza il principio di sovrapposizione degli effetti, che consiste nella condizione che una particella è ovunque ed in qualunque stato possibile, e l'effetto del collasso della funzione d'onda consiste che la particella è in una data posizione nello spazio ed in un dato stato solo all'atto della misura, che sono due aspetti chiave della meccanica quantistica e che descrivono come la natura quantistica degli oggetti viene influenzata dall'osservazione. Il gatto di Schrodinger è un modo semplice ed intuitivo per far capire questi concetti astratti. La base del paradosso sta nella casualità del processo di decadimento radioattivo, che secondo l'interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica sarebbe sia decaduto che non decaduto allo stesso tempo, secondo il principio di sovrapposizione. Nello specifico del paradosso dell'amico di Weiner, Weiner immagina che, in sua assenza, un suo amico, in un laboratorio, compie l'esperimento del gatto di Schrodinger, Weiner, poi, verrà a sapere se il gatto sia vivo o morto solo al proprio ritorno al laboratorio. Ci sono, dunque, due sistemi differenti. Il sistema scatola, che contiene il gatto di Schrodinger e la fiala di veleno, ed il sistema laboratorio, all'interno del quale c'è l'amico di Weiner con la scatola. Il punto cruciale dell'esperimento mentale è nella seguente domanda. Al ritorno di Weiner, lo stato del sistema laboratorio sarà in sovrapposizione tra gatto morto, amico triste e gatto vivo, amico felice e si determinerà su una delle due possibilità solo quando il fisico entra nel laboratorio e viene a conoscenza del risultato, diventando quindi, un osservatore, oppure Weiner troverà che la sovrapposizione è stata dissolta già da prima a causa della presenza dell'amico nel laboratorio che ha aperto la scatola e constatato lo stato del gatto. Nel celebre paradosso del gatto, si afferma che la scatola non si trovi in uno stato definito, almeno dal punto di vista di un osservatore esterno, finché non viene aperta. Analogamente dovrebbe essere per il laboratorio per un osservatore esterno cioè Weiner, visto che, concettualmente, non c'è alcun motivo per supporre diversamente. Questo vuol dire che, finché Weiner è lontano dal laboratorio, deve valere la sovrapposizione tra i due stati del laboratorio, gatto vivo, amico felice e gatto morto, amico triste. Il punto è che nel laboratorio c'è l'amico del fisico, che, aprendo la scatola, mentre quest'ultimo è lontano, svolge il ruolo di osservatore del sistema scatola e fa collassare lo stato di quest'ultima su uno dei due possibili stati, gatto vivo o gatto morto, per logica, allora, poiché l'indeterminazione dello stato del sistema laboratorio è dovuta solo all'indeterminazione del sistema scatola, sia che anche lo stato del sistema laboratorio dovrebbe collassare già prima che Weiner ritorni in esso, in contraddizione con quanto appena affermato che cioè il laboratorio è in sovrapposizione gatto vivo, amico felice gatto morto, amico triste. Questo è un paradosso in quanto sia simultaneamente lo stato determinato della scatola, cioè la sovrapposizione eliminata, in quanto l'amico di Weiner ha aperto la scatola e visto lo stato del gatto e uno stato indeterminato del laboratorio per la sovrapposizione, del gatto vivo, amico felice e gatto morto, amico triste, per un osservatore esterno al laboratorio, cioè in questo caso di osservatore osservato, per l'osservatore sia uno stato determinato mentre per chi lo osserva lo stato è indeterminato perché esiste ancora una situazione di sovrapposizione. Questo paradosso dell'amico di Weiner è un paradosso che riguarda la descrizione degli oggetti quantistici in relazione alla loro osservazione. Il paradosso sostiene che non è possibile descrivere un oggetto quantistico, da parte di un osservatore, in modo indipendente dalla sua osservazione e che la natura quantistica degli oggetti è influenzata dalla presenza di un osservatore, e quindi il punto centrale del paradosso consiste nel relativismo della realtà stessa, e nel capire se i due osservatori vedono la stessa cosa. L'esperimento si interroga perciò sull'esistenza di una realtà oggettiva, indipendente dall'osservatore e dal libero arbitrio personale. Questo porta a una descrizione apparentemente contraddittoria della realtà quantistica, che ancora oggi rappresenta una questione aperta nella fisica. La questione fondamentale consiste se i due osservatori vedrebbero la stessa cosa, se esiste una realtà oggettiva indipendente dall'osservatore e se le scelte operate da un osservatore influenzano il risultato di un altro osservatore. Ciò che è osservabile lo è in relazione ad un osservatore, qualunque cosa sia l'osservatore, uomo, macchina, computer, particella elementare, eccetera. Non esiste una realtà oggettiva indipendente dall'osservatore. Le assunzioni di località, indipendenza e realismo, assunzioni scontate in fisica classica, non sono compatibili con la meccanica quantistica, non valgono nel mondo dell'infinitamente piccolo. Nel mondo dei quanti gli osservatori sono giocatori importanti. Secondo la teoria, le particelle possono stare in diversi luoghi e stati nello stesso tempo, cosa che è chiamata sovrapposizione. Ma stranamente, questo accade soltanto quando non sono osservati. Nel momento in cui si osserva un sistema quantistico, esso assume una posizione nello spazio ed uno stato specifico, rompendo la sovrapposizione. In altre parole, la coscienza umana potrebbe in qualche modo influenzare i fenomeni che hanno luogo nell'universo. Che la natura si comporti in questo modo, è stato provato molte volte in laboratorio, per esempio, nel famoso esperimento della doppia fessura. Wiener ideò questo esperimento mentale per illustrare la sua convinzione che la coscienza sia necessaria per il processo di misurazione in meccanica quantistica. Wiener presentò questo paradosso in un suo articolo riguardante il problema mente-corpo alla luce della meccanica quantistica, e lo integrò successivamente nel suo libro Simmetrie e riflessioni, del 1967. Attualmente questa sua interpretazione della meccanica quantistica è nota come coscienza causa del collasso. Per i fautori di questa teoria, la coscienza e gli oggetti sono in entanglement, cioè collegati, e non possono essere considerati distinti. Il problema è che la coscienza non ha una definizione operativa, dunque la teoria è essenzialmente metafisica. La teoria può essere considerata come un appendice speculativa alla maggior parte delle interpretazioni della meccanica quantistica. Molti fisici la considerano non scientifica, affermando che non sarebbe verificabile e che introdurrebbe nella fisica elementi non necessari. Ciò nonostante, i fautori della teoria replicano che la questione se la coscienza sia necessaria rimane aperta e molti esperimenti lasciano una porta aperta alla possibilità che la tesi possa essere corretta. Il paradosso dell'amico di Weiner è stato confermato da un protocollo sperimentale che utilizzava tre coppie di fotoni entangled, in cui una coppia fa da osservato e le altre due da osservatori della coppia osservata. Queste due coppie osservatrici rilevano un dato diverso tra di loro sulla coppia osservata, un po' come se in una stanza una persona lanciasse in aria una moneta e fuori di questa stanza ci fossero due osservatori, ed ad un osservatore risulta testa e dall'altro croce. Questo è tutto, spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante, in questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.